Se il mondo dell'automotive si evolve, perché non può farlo anche quello delle costruzioni? Negli ultimi 50 anni la produttività dell'industria è aumentata del 40%. Nelle costruzioni non è cambiato nulla. Ed è per questo che abbiamo deciso di diventare noi i protagonisti del cambiamento. Nell'83 abbiamo fondato Tecnostrutture e abbiamo creduto da subito nel potenziale delle travi miste. Insieme a numerose università abbiamo concretizzato nuovi prodotti, sempre più performanti. Così, partendo da una trave, siamo arrivati a sviluppare un sistema completo. New Performance System Oggi contribuiamo attivamente ad evolvere il mondo delle costruzioni e siamo punto di riferimento del costruire bene. Ogni giorno, con il nostro team, lavoriamo per garantire tempi e costi certi, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Sempre di più NPS viene scelto da investitori e professionisti di tutto il mondo. www.nPS-Glo.com Grazie a tutti.